L'acqua è pubblica e resterà pubblica, non c'è in Italia nessuna legge che la privatizzi. Posso sentire qualsiasi cosa, lei è qua se non vede la passione negli occhi della gente. Credo che questo sia un segnale anche forte e importante. Poi c'è un ultimo punto che andrebbe secondo me sottolineato. L'anno è la più grande piazza di cocaina d'Italia, una delle più grandi del mondo e quindi qui si lavora in Lombardia molto bene. Non hanno le nostre abitudini, anche se sono molto migliorati sicuramente nel corso degli anni. Io penso che gli italiani abbiano solo un po' paura. Personalmente sono amico della signora Marcia Gaglio. membro della trans-avanguardia conosciuto in tutto il mondo.